Sono Guido Roberti, sono Massimo Petronio, sono Paolo Zigante. Vi aspettiamo ogni martedì alle 14.15 in replica alle 20.15 su Radioattività per il salotto sportivo del Caffè dello Sport. Abbiamo ospiti in studio e collegamenti con i protagonisti per vivere tutto il mondo del calcio dilettante. Ma si parla anche di Triestina e del campionato di Serie B perché dopo 35 anni ho ancora la grande passione di parlare delle vicende di Galabardati. Allora vi aspettiamo su Radioattività il martedì alle 14.15 e con la replica delle 20.15. Il Caffè dello Sport, cercaci anche su Facebook. Grazie a tutti.